bello a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo video oggi sono con style perché vi è andata a fare la doccia io sono appena tornato dalla doccia appunto noi dobbiamo ritornare cioè non possiamo prendere l'oro cosa devi fare che io non so neanche cosa possiamo prendere l'oro perché ieri ci siamo lasciati a king of the heavens che dovevamo fare la missione di prendere un totem cioè non vecchio perché vecchio sarebbe una parola grossa ok e poi noi adesso attacchiamo va bene cos'è il totem il totem è questa cosa che vedi il totem è come quello degli egizi cioè non degli egizi però il totem è quello che usano com'è che posso dirlo un totem si un totem è questo qua questo qua guarda l'avete visto voi beh si è ovvio l'ho indicato ma loro non vedono che lo indichi come fanno a vederlo mica ti vedono il dito perché io non l'ho indicato col dito l'ho indicato con la freccia allora allora guardate oggi abbiamo una nuova missione strano no è uguale no abbiamo 20 gemme quindi è molto difficile le usi no cioè queste sono le gemme come voi giocate clash of clans queste sono le gemme questo è l'oro ok quindi tu devi saltare sul muro e evitare la ruota adesso vi faccio vedere perché devo sistemare cosa fanno quelli che soffrono sparano ma decidi te dove ci mettono magari due che difendono una volta ah ti devi difendere non mi devi non ti devi difendere venere giù scappare vedete ragazzi io vi sto facendo vedere una prova di king of tears come l'ho modificato perché troppo facile ma puoi modificare i livelli cioè non è che puoi modificare i livelli però puoi modificare l'atterizzatura ad esempio ok ho capito se questa la mettessi qui anche questi li mettessi un po più vicino forse no sarebbe troppo facile meglio qui speriamo bene ecco però è troppo facile infatti infatti sei morto non è facile te lo deco a traire troppo facile troppo facile infatti forse ho sbagliato infatti ragazzi io andavo avanti col gioco posso continuare a modificarlo infatti lasciamolo così dai lascialo come al suo livello così lasciamolo così ragazzi raccogliamo di nuovo l'oro perché i minatori stanno facendo un bel lavoro questo è il nostro oro questo sarebbe come l'elisire cioè però sono gemmi infatti ma tu in clash of clans li chiameresti in questo sarebbe l'elisire queste sarebbero le gemme infatti sono gemmi io però non so dove andare a cavolo attaccare perchè noi eravamo qui stai livello 3 oggi da scuola ho portato trova una corrispondenza portato voi questa da scuola bene trova una corrispondenza mi porteranno una non devo trovare la corrispondenza oh livello 3 vai andiamo avanti per i livelli io prenderei l'ultima corretto io prenderei l'ultima questi mostri che vedete cioè non sarebbero dei mostri normali sono dei mostri di king of the aves che praticamente servono per difendere il proprio castello cioè se uno ruba le cose dell'altro l'altro va a fregargli le cose come quello ha fregato le cose a lui cioè sarebbe tutto un mare di ladri in questo gioco ah ma le altre persone che hanno scaricato questo gioco stanno giocando ma no cioè possono venire a rubare le cose da te vedi te ti faccio vedere il video no si ormai no qual è il tuo castello il mio castello è aspetta è questo e più vai avanti più sblocchi tipo la ruota lì che ti taglia ma la ruota lì che ti taglia la prendi già lì vabbè i cannoni quelle cose lì sblocchi le armi ah quindi questo qua quello che stai facendo in te questo che vediamo è il mio castello allora andiamo avanti a farvi altri dai guarda se gli sblocchi le armi però noi purtroppo style avevamo cioè eravamo cioè il primo livello se voi vi ricordate ragazzi un tizio ci ha fregato ah ci hanno già attaccato no ma il primo livello perché quando l'abbiamo iniziato da questo totem non ci hanno fregato ok dai andiamo avanti a fare il 4 così ne portiamo 4 o 5 livelli alla gente eh si no anche questo qui è il mostro io prenderei questa questa certo che sei bravo con le porte le manine mi ascolti molto eh frega fregato lo so però muoio sempre cacchi quante vite hai? pochissime guardala ecco la vita ah è la vita 30 a te vediamo aspetta ecco qua vi hai visto ragazzi questo mostro questo mostro vi stavo parlando di questo che lo chiamiamo che noi lo chiamiamo most cioè in questo gioco si chiamerebbe no come lo chiamiamo noi dai noi lo chiamiamo cicciolino 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 di quel castello è stato attaccato da noi è divertente che era l'altro di cicciolino cicciolino beh cicciolino dai facciamo il 4 e ci stiamo provando ci stiamo provando ci stiamo provando ci stiamo provando oh lei ha scoperto questo è il 6 tira l'altro no probabilmente prima dobbiamo fare il 5 ah ma al contrario non è al contrario io prendi la testa ho sbagliato perchè ti da sempre meno o meno una perchè ti togli una chiave allora te ne ho fatto due no come no perchè ce n'era una giusta questa roba è difficile aspettiamo che passa mi sono fatto scomplicata eh però io sono però io sono forte perchè ci ho giocato 6 anni cosa che tu vuoi fare ti a me vanno gli stai svelando tutti i trucchi per passare di livello bravo bravo dai beh per passare di livello ci sono molti trucchi fai sempre a te fare il figo e quando c'è un'esplosione con gli occhiali camminare è lo tuo per il figo parlo da te il camera no il sguardo te l'alzio ovvio da figo il sguardo te l'alzio il sguardo te l'alzio il sguardo te l'alzio aspettate così un po' ecco questo è il cannone questo è il cannone che avete visto nella camera ci sono la chiave si appunto e vedi il meno uno e meno uno e e e e pom se non è quella giusta non hai più chiavi non te lo volevo dire ma non hai più chiavi cosa succede come muori cioè non muori non muori ma non muori cioè non muori però c'è un gioco devi aspettare tantissimo aaaa prima che te le da da l'altro io ho mancato una cacchina io le chiamo cacchine ma queste sono punti che servono ma non ci dico le parole dai cacchine allora queste qui sono punti sono punti che servono per il gioco e per andare avanti eh 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 stai tu non lo sai più no io non lo sapevo adesso saliamo di livello saliamo di livello aspettate eh che qui bisogna aspettare boom lo sapevo ahah punto sul lato eh eh punto sul lato dai facciamo l'ultimo così sali di livello magari eh il 6 non lo facciamo ah il 6 l'ho già fatto il fungo lì no vabbè ma lì come cacchi ci faccio eh ah io si ho già un trucco una due ciao bello e devi aspettare niente allora praticamente noi dobbiamo aspettare le vite quindi noi abbiamo già una chiave nuova allora aspettiamo bene le chiavi le chiavi si caricano si caricano con il tempo che ci vuole e quindi noi adesso siccome è che adesso noi siamo rimasti a due lucchetti quindi noi non sapremmo visto noi abbiamo noi abbiamo solo una chiave e dobbiamo fare la bivò eh se ci va di culo se ci va se abbiamo fortuna ecco niente vedete purtroppo non abbiamo preso la chiave giusta eh si ma che la chiave giusta il pomello giusto non ci fa andare avanti bentate quindi per adesso noi per adesso noi non vi salutiamo non vi salutiamo cioè vi salutiamo lasciate un bel like se volete intanto commentate commentate condividete condividete e poi salutate Stasi e Stai e lasciate anche un bel like lasciate un bel like da Stai da Sam Asia Asia che non c'è un saluto a tutti ciao ciao saluto ciao Ciao!